Ma che palle! Dov'è il mio tè? Che problema hai? Le donne. Donne, donne, donne! Ti racconto qualcosa sulle donne. Quando ero giovane, uscivo sempre con la ragazza più bella del villaggio. Insomma, dovunque lei entrasse, tutti si voltavano a guardarla. E tutti volevano scoparsela. E' chiaro che lei gradiva tale attenzione perché... Devo caccare. Cazzo! Ma come hai fatto a dargliene cinque? Non prendertela con me! Anche se fosse stato volume, non se ne possono dare cinque, non lo so. No, non lo so, quante se ne possono... C'è nessuno! Salve! Ho bisogno del bagno! Ce n'è uno al piano di sopra? Sono su una sedia a rotelle, testa di cazzo! Allora, che cazzo! Come c'è il rivo al piano di sopra? Apri la porta! Aspetti un momento! Che cazzo facciamo? Che cosa cazzo facciamo? Mettiamolo dietro il divano! Dai, spiegati! Cerco la chiave! Ma che cazzo ti dice il cervello? Sto per caccarmi dai pantaloni! Spiegati! Fai presto! Rapido! Fai presto! Fai presto! Oh cazzo! È una toccata in fuga! Fa presto! Aspetti! Presto, presto, presto! Presto! Ci siamo! Su! Aiutami! Dai, aiutami! Tirami su! Su, su, dai! Che cazzo! Ho preso una toccata in l'altra! Ce la fai? Ce la fai? Certo! Certo che ce la faccio! Presto, presto! Cerca di vedere dove è la cazzo! Adesso abbassami i pantaloni! Abbassami i pantaloni! I pantaloni! Non ce la faccio! La faccia lei, cazzo! Come cazzo faccio? Sono handicappato! Abbassali, abbassali! Che la faccio! Ci siamo, ci siamo, ci siamo! Eccoli! Eccoli! Che fatto è? E fatto! Le mutande, le mutande! Abbassali! Abbassali le mutande! Una toccata in fuga! Una toccata in fuga! Abbassate! Abbassate! Abbassate tutto adesso! Sì! Mi sono! Ci sono? Sì! Sei sicuro? Sì! Mi sono? Cazzo! Si cedo! Sì! Si cedo! Adesso va meglio! Adesso va meglio! Non l'ho detto! Aspetti! Aspetti! Cristo! Ma qualche casino cazzo! Oh! Oh! Especialmente! Oh! Oh! Au! Agua! Agua! Che... Che cosa c'è? Mi hai dimenticata un po'. Dovrei preoccuparti di ben altro che della merda in bocca, se ci prendono. Ce l'ho ancora in bocca. Allora, tutto a posto. Dai, le vada. Lascia il biglietto. No, 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 no. Oh, cazzo. Controllalo, toccalo con qualcosa. Stai bene, amico? Riprova. Amico? Amico? Sveglialo. Amico, come si chiama? Non lo so. Prova, Philip. Filippo? Squatilo. Filippo? Svegli, amico. Stai bene? Filippo? Potrebbe non essere Filippo, però ho un altro nome. Allora, quello... Ehm... Svegli? Ehm... Ehm...